Quest'anno torna di nuovo l'appuntamento, il consueto appuntamento tra l'Accademia del Cinema Italiano Premi Davidi Donatello e il MIUR, di nuovo insieme per le scuole. Il 3 dicembre parte la prima masterclass del progetto Nel Labirinto del Cinema. Il primo ospite è Ferza Nozpetek che parlerà agli studenti del suo ultimo film La Dea Fortuna, premiato all'ultima edizione dei David di Donatello con ben due statuette. Ecco, cosa ci racconta di questa nuova edizione un po' particolare? Beh, l'edizione particolare è come le nostre vite, come tutto quello che succede e quindi mentre nell'edizione scorsa eravamo in presenza, naturalmente sia con gli studenti che con i talent e anche avevamo, cercavamo di ricostruire tutto il film attraverso le differenti professioni e mestieri, qui abbiamo dovuto scegliere una formula più snella, abbiamo quindi diciamo è in streaming e la partecipazione dei studenti verrà poi diciamo controllata attraverso domande che loro hanno già inviato e hanno inviato anche molti video domande che non sono affatto male, anzi alcuni molto carini, penso che li raccoglieremo alla fine. Noi iniziamo con un grande protagonista del cinema italiano che è Ferdan Ospetek, che farà aiutato da Stefania Olivi che è giornalista del Corriere della Sera, racconterà tutti dietro le quinte tutto quella che è stata la lavorazione di questo film così importante. Abbiamo avuto nonostante diciamo le nostre perplessità anche e le nostre preoccupazioni abbiamo avuto un bellissimo riscontro dalle scuole, a Foggia sono circa 600 studenti e quindi immaginiamo che in un anno così con la DAD e con tutti purtroppo costretti a lavorare solo attraverso il virtuale, immaginiamo che comunque possa arrivare una grande voce di cinema. Noi abbiamo sette appuntamenti, tonofoggia, Olvia, Acireale, Pesaro e Urbino, Pisa, Ancona e Firenze. E avremo anche altri protagonisti perché abbiamo già come dire l'assenso del maestro Bellocchio, il sì di Martone, di Mario Martone scusate, e poi tutti i registi presenteranno appunto la loro opera e cercheranno di vivisezionarla un po' con gli studenti, restituendo questa magia di cinema che insomma un po' ci sta mancando. Sette masterclass in tutto che coinvolgeranno appunto come ha detto lei tanti studenti di tutta Italia. L'obiettivo in particolar modo di questa edizione è riaccendere la macchina del sogno, un po' il sogno anche un po' il guardare al futuro in questo periodo dettato dal Covid. Questo è un grande momento, purtroppo è una contraddizione, ma è un grande momento per immaginare il futuro. È adesso che lo dobbiamo pensare, è adesso che lo dobbiamo far vivere ai ragazzi e far immaginare ai ragazzi. Io spero naturalmente per il cinema che si riesca a ritornare il più presto possibile in sicurezza nelle sale. La sale è il luogo magico, ideale dove vedere un film. Credo però che il futuro ci presenterà un panorama molto ibridato, molto ibrido e quindi dovremo imparare a far funzionare il cinema della sala assieme al cinema delle piattaforme, trovare anche il sistema economico per far funzionare queste due cose. L'importante è che non perdiamo la creatività, cioè che non perdiamo... Oggi leggevo che in Italia si stanno girando tipo... Adesso credo che il numero fosse esagerato. Diciamo un'ottantina di set aperti. Questo vuol dire che la produzione continua, che si continua nonostante appunto il distanziamento e tutto quanto, perché poi il problema non è solo riaprire le sale e avere il prodotto, il film, la storia da vedere in quella sala. Quindi, insomma, mantenere vivo il rapporto con la generazione giovane è fondamentale perché sono loro, sono loro quelli che sconteranno di più ma anche avranno maggior possibilità di insegnarci a vivere in un altro modo. E anche un segno importante è le istituzioni, in questo caso il MIUR, che quest'anno rinnovano l'appoggio nei confronti dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Certo. No, beh, abbiamo come tutti vinto un bando, naturalmente, quindi abbiamo presentato un progetto. No, non è affatto scontato, non è scontato nulla in questo momento. C'è un grande sforzo, questo bisogna dirlo, io non vorrei essere un politico puro oggi per dover decidere, scegliere, finanziare, però c'è un grande sforzo di sostegno a tutto l'ambito culturale. Non so se basterà a sopperire la grande crisi che stiamo vivendo, però certamente è importante che il MIUR, che le istituzioni si sforzino appunto almeno di tenere la barra dritta sulla scuola, sulla cultura, sulla sua diffusione, anche inventando cose diverse. Questa è anche una grande occasione, diciamolo, per forse tagliare cose che potevano essere, non c'è nulla di superfluo, però che potevano essere meno interessanti, meno focalizzate e scegliere quello che veramente ci farà ripartire. Grazie a tutti.